Sì, sono Gregorio Bonsignore, sono il nuovo dottorando del VISIT e nei prossimi tre anni mi occuperò di un progetto che è finalizzato all'utilizzo di composti naturali in abbinamento con i chemioterapici allo scopo di ridurre la tossicità di questi farmaci. Nello specifico io mi occuperò di studiare gli effetti sul mesotelioma pleurico che è un tumore raro ma molto diffuso nella regione in cui vivo che è il Piemonte specialmente nella provincia di Alessandria ma che in realtà è un problema che anche in altre zone d'Italia è presente. Quindi mi impegnerò con tutte le mie forze però serve anche il vostro aiuto. Quindi sostenete la ricerca sulla piattaforma GoFoundMe. Grazie.